al via da oggi fino al 26 luglio la quinta edizione di impronte femminili la rassegna di arte e cultura per le pari opportunità e la difesa dei diritti l'evento di quest'anno coinvolge 15 comuni della nostra provincia e vede la partecipazione attiva dell'ambito territoriale sociale 6 18 gli appuntamenti che si dividono in presentazioni di libri mostre d'arte proiezioni di film aperitivi musiche balli e molto altro ritorniamo completamente in presenza pari opportunità diritti che quest'anno si rivolgono a indagare la questione delle donne straniere nel nostro territorio nello specifico quindi si dedica completamente al tema della multiculturalità e cerchiamo di indagare e dare voce alle varie comunità femminili che molto spesso diciamo così lasciano il posto magari a quelle maschili o a volte non lo hanno affatto una rappresentanza realizzeremo un appuntamento supergola dedicato appunto alle donne dell'est con la presentazione di un docufilm e di un lavoro sul territorio dedicheremo poi un altro grande appuntamento sulle donne l'islam titolato l'islam femminile a fermignano con la collaborazione di altri quattro comuni comune di fermignano urbino e fossombrone e poi tutta una serie di appuntamenti diciamo più piccoli o anche diciamo dedicati ai più piccoli sui vari territori per cui ecco niente consiglio comunque di tenersi aggiornati sul programma che sarà sempre aggiornato sul sito improntefemminili.it naturalmente anche sul sito del comune di Fano e sul sito del paricentro che avrà un ruolo di coordinamento molto importante quest'anno. L'evento è patrocinato anche da diversi soggetti istituzionali come la provincia di Pesaro Urbino, la fondazione Cassa di Risparmio di Fano e dall'assemblea legislativa commissione pari opportunità della regione Marche. E' l'unica rassegna dedicata alle tematiche di genere che riunisce 13 comuni, 13 comuni tutti nella nostra provincia dalla costa fino all'entroterra che fino alla fine del mese di luglio proporranno iniziative diverse con approfondimenti e prospettive differenti sulle tematiche e l'interculturalità ma anche i problemi che stiamo vivendo a causa del conflitto russo-ucraino e quindi una sensibilità particolare che caratteristica improntefemminili anche per ciò che riguarda l'interculturalità. E poi l'altro punto che caratterizza improntefemminili è quello del modo di approccio alle tematiche di genere, un approccio nuovo, moderno per cui tutti gli appuntamenti sono dedicati a donne e uomini di ogni età, dalle ragazze più giovani fino alle più adulte.